Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi imparo come riuscire a prendere il mio secondo canale MaxTikTok Sì ragazzi c'è un metodo per prendere il mio canale Ragazzi, sì esiste un metodo Voi andate qua, ok? Bene, poi un secondo ragazzi devo mettere in pausa perché lo devo scrivere Ok ragazzi, dopo aver scritto MaxTikTok che Lili ci salva Andiamo sul cosa di ingrandimento, quella là Poi, eccomi qua, MaxTikTok 5 iscritti Un video non è vero ragazzi Ok, forse si deve aggiornare E qua c'è il mio MaxTikTok, il mio secondo canale Che non ho canali, non mi sono iscritto in questo canale MaxTikTok Andiamo a vedere un video che si trova su TikTok Ragazzi è bello questo video Secondo che carico Ciao ragazzi Con il fuoco C'ho il fuoco dietro L'abbiamo visto Sta prendendo a fuoco Fra un po' sono arrosto Fra un po' sono arrosto Aiuto, aiuto Ok ragazzi No perché volevo farvi vedere Dopo che avevo cercato a lungo Perché ovviamente io nel mio canale non mi arrendo per niente Dopo aver cercato a lungo di cercare il mio canale Ovviamente ragazzi Voglio che anche voi vi iscrivete al mio secondo canale MaxTikTok Dovete fare questa cosa che vi ho detto E noi ci vediamo domani o dopo con un nuovo video E ciao ragazzi Mi raccomando Se non avete capito Rimettete il video da capo Grazie a tutti